Hi people of YouTube, welcome to a new episode of Astral Chain, a parte gli scherzi, benvenuti in questa prima e nuova serie sulla Nintendo Switch OLED. È vero, nel video di unboxing vi avevo fatto vedere che avrei fatto Xenoblade 1, ma in un negozio ho trovato questo a un prezzo decente e questo era uno di quei giochi che mi aveva interessato davvero molto sulla Switch. Quindi ho fatto un piccolo sondaggio per capire quale dei due titoli iniziare prima e diciamo che erano più o meno alla pari, ma molti spingevano di più su questo qua, per un motivo o per un altro. Quindi, iniziamolo. Non conosco assolutamente nulla di questo titolo, tanto quanto Xenoblade, però sono curioso, sono veramente curioso. Ok, premiamo questi tasti. Ah, così subito. La schermata introduttiva era già una schermata iniziale. Ok. Questo è un iperfuturo. 2078. Ah, un anno dopo Cyberpunk. Prime Core, fully seated. Ok. Questo deve essere importante perché c'è i capelli esposti, sicuramente. E questo deve essere il capoccia. Ha un'area molto William Dafoe e comunque anche Final Fantasy, sto tipo. Ok, lo stanno per bombardare con dei raggi. Secondo me succede un casino. Secondo me fanno un casino. Ma forse no. Forse sanno cosa stanno facendo. Ok. Stanno digitalizzando una creatura? Ci avevo azzeccato. Eh, hanno fatto un casino. Ah no, invece ce l'hanno fatta. Ma è buona o cattiva? Credo cattiva, vista la faccia. Sì. Ok, no, non voglio saltarla. Oh, è la. Evangelion e Gendo style, sta roba comunque. Molto Evangelion. È in fase Berserk. Lui lo guarda come Gendo. Uguale. Questo è Rizuko. Ah, forse non è... Cioè, forse sì, è stronzo, ma... Sanno controllarlo. Ok, quindi questo non era un esperimento... Casuale. Sanno controllarle queste bestie. Ah, la stanno mettendo sotto il loro controllo con quelle catene ora. Ahì. Eh sì. Ok, non era... Una tantum, diciamo. Era un... Un esperimento già fatto, quindi. Però è rosso. Questo vuol dire che questo è più cattivo degli altri. Gendo. Gendo. È Gendo Ikari, quest'uomo. Non lo so, non riesco a capire se... Se stanno... Se sanno cosa stanno facendo o no, giuro. È un continuo sì e no di emozioni. Ok, è diventato da rosso a blu, quindi... Penso ce l'abbiano fatto. Quindi? Ok, penso ce l'abbiano fatta. È vivo? Toccalo. Ok. Questo probabilmente siamo noi. Oh no. Eh sì, siamo noi. Ovviamente. Ah, fammi pensare. Ok, prendili. Eccoci qua. Schermata di creazione personaggio. Dai, sono curioso di vedere com'è. Ok, maschio e femmina. Ma... Ok, c'ho una mezza curiosità, ma... Penso che... Ci pensiamo strada facendo. Ovviamente. Ah, possiamo scegliere anche a caso. Beh, non mi sono molto... Giapponesi. Però... Il nostro nome... Già ce l'abbiamo. Xenovia, come sempre. Che tra l'altro vorrei farvi notare che... Sette lettere precise precise, eh. Poi, capigliatura. Vediamo un po' i capelli. Ok. Tutti molto basilari, devo dire. Questi due non mi dispiacciono. Questi due non sono male. Però la nostra Xenovia... C'ha capelli corti con un ciuffettino davanti. E... Beh, questo è un ciuffettone. Il gioco che più mi ha permesso di cambiare capigliatura e avvicinarla alla Xenovia originale... È stato Code Vein su quello, assolutamente. E penso che il cappello più giusto sia la O, assolutamente. E il colore... Ovviamente blu. Blu scuro, blu chiaro. Blu chiaro. E vorrei vedere... Secondo voi, le modifiche se adesso le facciamo al maschio, gli rimangono? Ah no, il nome è unico. Però vorrei cambiargli almeno, che ne so, capigliatura. Giusto per avere un personaggio dal colore unico, dai. A una roba unica. E direi che ci siamo. Beh, è stato un editor molto basilare, eh. Però penso che punti molto di più sul combattimento che sulla creazione del personaggio. E via, si inizia. Brenda, dove sono i due nuovi candidati adesso? Doctore, abbiamo appena ricevuto informazioni dalla polizia di una creazione di aperta confermata in città centrale. Ok. Tutti gli uffici di uffici hanno stato sentito per l'investigare. Assolutamente che i twins... Ovviamente. Hmm, questo avrà fatto. Siamo considerate questo il loro testo di campo. Ma, signor, non ne abbiamo even briefato loro sul progetto. Lo scopriranno strada facendo. Ma perché ho il contorno occhi blu? Cioè, va bene le sopracciglia, ma il contorno dell'occhio perché è blu? Bello. Bello sto inizio già sulla moto. Inizio. Ma dove... Oh, posso guidarla. Attraversa il tunnel. Eh, ma non c'è traffico, non... Spiegami i comandi. Cioè, posso frenare, posso sterzare, che ne so. Sì, capo, arrivo subito. Oiii. Schiva. Ah, con la B. Ok. Quindi abbiamo... Una moto... Figonza che spara. Bellissima. Già sta cosa mi piace. Perfetto. Crepaci. Mi chiedo se sta cosa di andare in moto sia una tantum, o sia una cosa che dovremmo fare molto spesso. Visto già l'impegno in questa sezione secondo me è una cosa che non ti dico che faremo sempre, ma abbastanza spesso. Adesso ne arriva uno. Sì, come no, certo. Ovviamente c'era una rampa, però... Pezzo di merda. Pronta all'uso. Uh, ma sono terroristi questi? Che tra l'altro mi sto confondendo i tasti e continuo a schivare con... con il tasto che sto usando per sparare. Solo che sono un idiota, lo sto già usando. Oia. Ecco fatto. Calmo. Maledizione. Eh, tranquilli, le rinforze adesso arrivano. Che tra l'altro questa rampa potevo missarla, eh. Cioè puoi missarla quella rampa e finire a doverti schivare tutte le macchie da solo. Non riesco a capire la hitbox della moto o meglio, la hitbox di questi nemici. Quella. Posso ancora schivare. Ok, non ha un fuoco automatico, ma se continuo a premere in sostanza lo diventa. Oh, ti dirò che non mi dispiace. Io di solito odio dover fare le sezioni in moto, queste cose qua. Tempo. Ah, c'era anche a tempo. Risultato? Ah no, risolto. Non abbiamo un risultato. Perfetto. Dettagli sì e no. Vediamo. Ah, questa era la... C'è anche la schermata. Che bellino. Il camion intanto continua la sua via per l'esplosione. Dobbiamo evitarlo? Ovviamente. Ah, esplo... Io pensavo di passarci sotto come nei migliori film di Bollywood, ma... Ehi. Però siamo bravissimi. C'è da dirlo. Siamo bravissimi. Comunque questi sì sono... Diciamo terroristi, ma non sono umani. Forse sono della stessa... fattezza di quella specie di cosa che abbiamo visto all'inizio. Bellissima che siamo, dai. Ok. In certi punti il gioco salva automaticamente e non spegne la console. Vabbè, ovvio. Muoviti, scatta. Ah, per scattare te ne hai premuto. Ok, perfetto. Ah, è il fratello? No, è un altro. Ehm, ok. Come faccio ad aiutare sta gente con la A? Ok, certo. Tranquillo, ti aiuto io. Dove lo portiamo, capo? Arrivo, arrivo. Tra l'altro abbiamo anche una sezione di armi. Meno opzioni. Ah, opzioni. proprio apre un menu addetto alle opzioni. Ah, proprio le impostazioni. Ok, ora possiamo proseguire. I miei compagni sono andati avanti, eh. Non muoverti? Eh, beh, certo. Che sennò ti fai male. Non ho potuto fare nulla. Eh, beh, lo vedo. Il casino sicuramente è successo. Non so di che tipo, però lo scopriremo presto. Madonna, che flashata in faccia che gli hanno fatto a sto tizio. Un bel elicottero. Ma stiamo guadagnando dei punti? Non capisco se è esperienza o soldi. Grazie dell'aiuto. Ok, perfetto. Madonna mia! Arrivo subito, capo! Nuovo caso disponibile. Ok. Ma se schiaccio il più, invece... Ah! Invasione di abomini si chiamano. Ok, col B schivo. Ok. Si attacca con ZR. Non si può saltare? Vabbè, è come Codvain o i Sols in generale. Non salti. Ok, aspetta che arrivo subito. Madonna mia! Aggancia il bersaglio. Perfetto. Ma i colpi sono infiniti? Aia! Devo ricordarmi che schivo con B in questo gioco. Ma... Ah! C'è anche un... un tempismo della schivata. Certo, però, agganciare il nemico è molto poco pratico. Madonna mia! Che calcio incredibile! Attenzione! Allora, c'è da dire che a differenza di quando eravamo in moto non posso continuare a premere per fare gli attacchi consecutivi. Bonus prima volta. Vabbè, certo. Non si può continuare a premere il trigger per continuare a sparare. Questo sì. Sì, sto benissimo. Grazie. Come se ne avessi bisogno. Medicina piccola. Perfetto. Sono qui, in mezzo al casino. Vedi tu? Perfetto. Andiamo a vedere. Tranquillo, farò attenzione. Capo. Però, voglio fare un piccolo cambiamento. Questo sì. Gli oggetti di recupero e quelli da combattimento sono uno dei due tipi. Standard, che restano nell'inventario fino all'uso, rifornimenti temporanei da restituire alla fine del capitolo. Cioè, scusami. Se loro mi danno delle cure e non le uso ieri, devo pure restituire. Cioè, ok. Certo, probabilmente te lo fanno in modo tale che tu non superi una certa quantità di, che ne so, medicine, però dai. Che, che taccagni. Usa oggetto, tenere premuto per scegliere. Ah, ok. Perfetto. E abbiamo anche un massimale molto alto comunque. Perfetto, dai. Buono da sapere. Vabbè, non mi serve adesso curarmi, dai. Cioè, sincero. Ma abbiamo solo due armi, ok. Abbiamo quello che è il manganello e quella che è la pistola. Va bene. Quello è il nostro fratello? Sì. Akira. Ovviamente. Tranquillo, ti copro io. ok, questo è grosso e cattivo. Aiuto. E non posso targettarlo. Non lo posso neanche prendere, fantastico. No, fidati. Lo capirei se se avesse un problema agli occhi o la visuale. Invece sono proprio invisibili, stronzo. Aiuto. O più che altro è intangibile, non che non riusciamo a vederlo. Non è tanto quello il problema. ma... Ah, si fanno anche gli attacchi in corsa. Che figata. Ma scusa, fino a due secondi fa non lo riuscivo a colpire io con la pistola. perché lui ci è riuscito? Ok, qualcosa l'ha bombardato. Ah, è il tizio con una catena. Oh, oh, hai capito? Oddio, per un attimo ho pensato l'avesse ammazzato, giuro. Per un attimo pensavo l'avesse ucciso. Quindi, questo è a forma di cane, lupo, tigre, non lo so. Quell'altro era un gigante. Sì, ma non state lì a guardarci, aiutateci, avete due cose nelle catene. Quella, questo è grosso. Che cazzo ti guardi? Che cazzo ti guardi? tu! Molto Evangelion vibes, lo devo dire. Madonna mia! Caruccio, caruccio, non mi dispiace, te lo devo dire. dai, vieni se vuoi vivere. Grazie. Ah, è il padre, Max. Poi? Potremmo mettere la riunione a guarda. Molto Jojo vibes ha anche sta roba, eh? con gli stendoni con gli stendoni dietro. con gli stendoni dietro. ma loro non lo sapevano. Siete i predescelti. Siete stati scelti. Vai, usalo. Che cazzo è sto robo? Bene. Però lui non sembra molto contento. c'è un prezzo da pagare? C'è un prezzo da pagare per l'usarli? Tipo, ti consuma la vita, sei più esposto ai pericoli? Ah, così senza neanche spiegarci cosa sono, cosa si usano. Tieni, usalo, vai. però abbiamo scoperto che questi nemici si chiamano Chimere, quelli di prima Abomini. Non so perché mi ha fatto molto ridere tutto ciò. Non lo so, mi sembra molto dee Yu-Gi-Oh questa cosa. Avvento, eh. ok, questo è quello di nostro fratello. E quello di qua è il nostro. Questo qui è quello che abbiamo visto all'inizio, no? Perché il suo è più bello del mio? ma vaffanculo, lo volevo io. Ok. Però combatte da solo. Disattiva, invia, richiama il legion. ok, c'è anche c'è anche un tempo di utilizzo sto robo. E se uccido i nemici posso continuare ad usarlo. ok, ho capito che la pistola è veloce, certo. la pistola è veloce ma non fa un cacchio di danno. però perlomeno grazie a questo cosone qua ora riusciamo a vederli. Sai cos'è che rende un po' difficile correre? Il fatto che il tasto è piccolino però la corsa è automatica aspetta. Una volta attiva comunque rimane. Oh calmo vieni qua vai calmati da dietro bastardo mi piace la schivata quello sì la schivata che fai in corsa mi piace molto di più questo è un big boss questo è un bel cazzone cattivo sì si capisce e ho anche difficoltà perché il controller è piccolo è proprio piccolo il controller questo è grosso questo fa male laio e c'è anche uno scudone è fantastico calmo subito verso di me si precipita lo stronzo perché il mio coso è scomparso come lo tiro fuori ecco fatto oddio attaccatelo ora ora lo richiamo ora lo richiamo uff calmati l'abbiamo confuso vedo delle stelline come faccio a riportarlo dentro ah così no aspetta oddio mio e come faccio è un po' tardi help qualcuno mi aiuti non posso salire ah devo solo schivare perfetto oddio me la son beccata tutta in faccia benissimo che è successo ah è lui che sta salvando noi ora abbiamo della roba in faccia mi sa che siamo oltre la sincronia noi ma quel cosone grosso e cattivo di prima eccolo appunto quella è una ah no è il manganello bello 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 vorrei saperlo anch'io e come si fa vorrei sapere anch'io come abbiamo fatto però lui c'è una spada la voglio anch'io no il manganello è una merda credo che quelli siano punti esperienza però non siano soldi eh beh è andata bene no eh lo so scusami ehi e penso che diventerà sempre più facile no lo spero lo spero perché effettivamente non capivo come ritirai dentro il mio il mio coso il mio legion si capo intanto mal di testa ma perché loro due hanno gli spadoni e io c'ho il manganello stronzo non lo voglio il manganello voglio lo spada eh c'è anche una sigla bellino bella mi piace la sigla la fanboy ovviamente con gli occhiali c'è sempre in questi tipi di giochi perché ho paura che entreremo in qualche tipo di complotto alla fine uh ma quello è un arco quello usa i pugni ecco quella era la spada sì è la spada eh sì è una spada già la sigla mi sta dando più informazioni di quanto mi abbia dato il gioco fino a ora però da quello che abbiamo capito questi legion hanno aspetti diversi non so se si evolverà il nostro legion in forme diverse o ne esistono molti di più penso molti di più quello era era dead mouse cioè non penso che tu hai un solo legion e puoi farlo evolvere in determinate forme credo che tu ne possa avere di più visto che tutti ce ne hanno di diversi bello mi piace astral chain come come primo impatto inizio inizio però quello di nostro fratello mi sembrava più bello ricompense servizio ok siamo saliti di livello e come avevo detto quelli non sono soldi ma punti esperienza i fiorellini mentre i soldi sono quei 6450G ora puoi cambiare lo stile di gioco quando cominci un capitolo e ho carichi un file di salvataggio in che senso in che senso stile è la difficoltà in sostanza ogni livello c'ha un tipo di difficoltà e puoi rigiocare i livelli precedenti in una difficoltà diversa credo sia così non è stato proprio specificato benissimo però penso sia così grazie grazie grazie